Ciao ragazzi eccoci alla terza parte di Rayman Legend molto bene, banda alle ciance e iniziamo subito anche l'ennesimo livello tutti a scuola drago, attenzione un altro bel castello ok questo ci c'è ma sono un testa di piazza stavo per morire arriva il nostro amico, esatto vediamo se, no meno male stavo per saltare ok aspetta ok ok molla figurate che se non ne dimenticavo uno dai prendiamoli tutti ok questo tiriamo giù qua fortunatamente tau per dire fortunatamente è facile è facile il cazzo no però questo qua significa che l'ho lasciato indietro ah la mia coglionaggine oh stavo per cadere ancora eh ok ah è vero che si poteva caricare il pugno me l'ho dimenticato cosa faccio cosa faccio ok e dopo andiamo su che ci sarà sicuramente una zona esatto per adesso è facile ah che bello ah che bello no 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 ok ok vabbè ok molto piano no 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 ok rifacciamo avevo anche quasi capito il meccanismo e la madonna troppo ok dai piano 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 e come faccio ah ok dai è stato facile un po' più grande fate la la ruota la prossima volta adesso ne ritroverò una gigantesca sicuramente ok concentriamoci intanto la no no dai mi devo suicidare non posso ho visto uno ho visto uno ok eh non potevo lasciarlo eh ok facciamo soletto a questo bell'imbusto oh oh vai sta per fregarmi eh però piano la musica non mi piace attenzione si bravo complimenti porca troia no non ho fatto il tempo eh dai prima che arrivi la fiamma attenzione c'è un drago intanto qua cade tutto da c'è un drago sta per morire niente panico niente panico puttana che che testa di cazzo ci complimenti madonna che culo però che ho avuto non che volevo prenderla ragazzi con molta calma non facciamoci distrarre dal drago si si dopo ti cago ce l'abbiamo fatta che fatica ancora questo questo dobbiamo pigliarlo e questi complimenti che cacchio dovevo fare ah ok però di sto passo non ce l'ho foro mai dovrei fare anche abbastanza chillere però la sto prendendo un po' troppo comodo sono morto forca troia dai che stavolta ce la faccio ok dai 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 no 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 porca di quella puttana ok dai dai porca troia stavo per perderlo madonna che schifo che ho fatto sono morto 30 volte e non ho preso neanche tutti eh figurati vabbè dai chi se ne frega ok e anche questo ennesimo livello l'abbiamo concluso facciamolo un altro dai sarà il boss sputa fuoco che brutta cosa ce la farò a prenderlo vabbè non ce la farò figlio di troia è che forse ce la faccio non ce l'ho fatta vaffanculo molta calma e adesso c'è pure il drago e vai minchia non so neanche che cavolo devo fare se seguiamo il ritmo ce la facciamo sconfiggio sì complimenti iniziamo bene bastardo non appena capisco il suo pattern d'attacco no che coglione dai 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 come cavolo faccio a colpirlo come farò a colpirlo non ho ancora capito il pattern basta dei cazzotti così e sono morto 80 volte per sta puttanata ah non è finito seconda fase ok ma sì ho capito però bastardo sta diventando più veloce perché è diventato più veloce porca troia io sto diventando più pirla ok stardo ah bastava colpirlo ok dai ci sarà la terza fase c'è anche non è abbastanza no non è abbastanza prima no che bello dai vieni su mi sa che devo stare giù per colpirlo mi sa che devo stare giù per colpirlo ok va un po' qua un po' là porca troia e come faccio e dai e muori porca troia oh sembra che non abbia preso abbastanza ho sbattuto contro la torre la musica che si storpia tutta bellissimo mamma mia ancora tu si è blocchiato ciao dove va è andato nel cedere del del maiale bellissimo ma cos'è bellissimo vabbè ne ho preso uno solo però chi se ne frega che schifo ah per poco per dieci va bene ok bene il castle rock io me lo farei me lo farei subito perché dopo una bella boss fight bisogna correre proprio ah con le musicali bellissime che figata questi livelli è difficile godersi la musica e concentrarsi no non l'ho preso è tutto a tempo l'hanno fatto no no sarebbe bello farli perfetti ma figurati no sono morto proprio alla fine no è incredibile è proprio la fine bellissimo dai ho presi tutti madonna per poco vabbè di solito mi darebbe fastidio finire con cifra dispari però questa volta ci passo sopra fantastico hai salvato questo mondo dagli incubi ti meriti proprio 5 gratta fortuna hai raggiunto il livello miticaggine 2 oh e ci danno anche 2000 lumen vai ok abbiamo finito il primo mondo ragazzi io direi che per questa parte può essere tutto prossima volta ci iniziamo storia gracidante poi cos'è questo ah fiesta de los muertos bene lo facciamo la prossima volta io come al solito vi ringrazio per avermi seguito vi do appuntamento con la prossima parte di raymond legend ciao a tutti ragazzi ciao a tutti